Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video, visto che c'è una settimana di pausa fra un capitolo, fra il capitolo 1047 e 1048 di One Piece, in questo video parleremo sempre di One Piece e commenteremo alcune teorie. Allora, in pratica, abbiamo trovato questo video, in inglese, di un canale che si chiama Zoronomi, vabbè, e in pratica ha fatto un video dove parla, cioè dove dice alcune teorie. Perché, proprio, cioè, avete presente quei video con le immagini che scorrono così e ci sono tutte le teorie, insomma, in inglese, faremo del nostro meglio, e noi le commenteremo. Ovviamente qua non sono spiegate, cioè ci sono solo le teorie, tipo, succederà questo, ma non è che è spiegato. E noi diremo la nostra e anche altre cose in più. Se secondo noi ci può stare se è una cavolata o se è sicuro quello che dicono loro. Comunque direi che possiamo cominciare. Allora, la prima è, Shanks diventerà un antagonista. Allora, probabilmente ci può stare, secondo me ci può stare. Cioè, mezza verità, mezza verità, ma non lo so. Il dubbio mi è venuto. Allora, diciamo che lui è comunque uno che cerca di mantenere sempre l'equilibrio nel mondo. Sì. Però magari ha un secondo fine. E secondo me ci sta il fatto che diventi un antagonista. Non è da escludere, ecco, è probabile, molto probabile. Il personaggio di Rufy, a un pirata del genere, a quel che gli ha detto Gorogel, diciamo. Ci può stare. Ricordiamo anche che Rufy gli ha rubato il gam gam, cioè che era loro. E alla fine gliel'ha mangiato lui. Però, vabbè, magari non c'entra niente. Però, secondo noi è così. Ti immagini avesse mangiato Shanks il gam gam? Se Shanks avesse mangiato il gam gam sarebbe stato il pirata più forte, probabilmente. La seconda, invece, è Any's Lobby ha un legame col One Piece. Diciamo che, sì, c'è un legame fra il One Piece e Any's Lobby. Secondo me no. Secondo me no. No, no. Perché, cioè, Any's Lobby è un luogo dove passano molti detenuti. Comunque, con la Galmatolite non fanno niente. Però non ha senso nascondere una cosa come un Pagne Grif o qualcosa che riguardi il One Piece in un posto come Any's Lobby. Comunque, la terza è, Sanji risveglierà il suo potere lunare. Cosa vuol dire il suo potere lunare? Cioè, lunarian, eh, ma che vuol dire? Ah, no, raga, ho capito. Sapete che mi sa che ho capito? Allora, secondo me no. No, secondo me è una cazzola. Diciamo che ci potrebbe essere un piccolo legame perché, cioè, i lunariani... È la stirpe di King, no? Cioè, non la stirpe, scusate. Comunque, è il popolo di... Sì, la razza di King. Che hanno le ali nere e creano fiamme. Diciamo che per il fatto che creano fiamme ci sta, ma le ali nere no. No, ma poi dovrebbe... Cioè, un legame anche con la famiglia, con la madre o il padre. Eh, con la madre, anche perché lui era l'unico... Cioè, la madre era l'unico che lo rispettava e quindi probabilmente, non lo so, magari lei sapeva di questa cosa. Però no, perché nemmeno lei ha le ali nere, quindi non ci sta tanto. Allora, la prossima. Zoro? Zoro è il figlio di Shimozu Kyushimaru. Allora, se non mi sbaglio, ora non mi ricordo bene, però se non mi sbaglio, è uno di quei tre samurai che hanno, tipo, liberato Yamato o qualcosa del genere. Allora, secondo me, cioè, è abbastanza ovvio. Se è quello di... Che è molto simile anche a Ryu, ma con i capelli tipo viola, come ce l'aveva. Se è lui, sì, secondo me ci sta un sacco. Secondo me, quando l'ho letto, ho detto sì. Ho detto, l'ho pensato anch'io. Però c'è sempre beneficio del dubbio. Comunque questa qui potrebbe avere una possibilità. Sì, sì, questo secondo me sì. Barba Nera ucciderà Shanks. Secondo me questa potrebbe avverarsi. O ucciderà, comunque si scontreranno, perché anche a Marineford... Sì, è probabile. Quando si sono visti gli schieramenti, chi contro chi, ok? Quindi da lì abbiamo capito che comunque ci sarà un eventuale scontro, anche perché Barba Nera ha detto, non è ancora arrivato il momento di affrontarvi. Quindi lo scontro ci sarà. Poi se lo ucciderà o no, non lo so. Io non so, secondo me uccidere Shanks è veramente tosta. Secondo me sì, invece, ce la potrebbe fare. Ora come ora ce la farò. Forse proprio alla fine fine, non prima degli ultimissimi scontri. Nell'ultima battaglia, sì. Non prima degli ultimissimi scontri, ma non lo so, non sono troppo sicuro. E poi c'è la prossima teoria che è collegata sempre con Barba Nera. Aokiji è una spia dell'armata rivoluzionaria. Ricordiamo che adesso Aokiji è insieme a Barba Nera. Potrebbe essere una spia, perché mi sembra strano che fra tutti si sia unito proprio a Barba Nera, che tra l'altro ha distrutto Marine, Ford e tutto. Mi sembra strano. Allora sì, ci sta che sia una spia. Anche secondo me, perché per la giustizia di Aokiji non si può unire alla sua armata di Barba Nera. Esatto. E poi comunque, cioè, può essere una spia, sì. Diciamo, questa ci può stare. Poi Im è la madre di Luffy. La prossima teoria, ecco sì, Im è la madre di Luffy. Lo dicono in molti, ma secondo me... Io spero che non sia così, anche perché Oda mi sembrava avesse affermato che la madre di Luffy non è un personaggio importante. Ma poi mi sembra... Cioè, se ha il cappello DJ Boy vuol dire che è o uno che appartiene a 100 anni di vuoto, anche perché, ragazzi, è sopra a tutti, anche ai 5 astri di saggezza. Quindi secondo me viene da 100 anni di... sì, da 100 anni di vuoto. O comunque è uno che si intende parecchio DJ Boy e di tutte queste cose qua. Non ha molto senso il fatto che sia la madre di Luffy. Sembra uno che comunque i 100 anni di vuoto li abbia vissuti. Poi tutto può essere, però ecco, non lo so. Andiamo avanti. Garp tradirà il governo mondiale. No. Secondo me no, se non l'ha fatto con Ace... Non l'ha fatto con Ace, non lo farà nemmeno adesso. Cioè, è stato troppo nella marina, ora a caso non tradirà il governo. Nemmeno la marina. Ci sta per un motivo, Garp, perché non la può proprio abbandonare, secondo me. Anche se vuole, non la può abbandonare. Ma poi, no, è troppo fedele al suo compito, non lo farebbe. Rox non è morto. Allora, ancora di Rox non sappiamo niente, però ci potrebbe stare, diciamo. Cioè, può darsi che sia ancora vivo, anche perché non sappiamo... No, io spero che sia morto. Non sappiamo effettivamente della sua morte. Quindi, magari si sono sciolti ed è ancora vivo. Magari, che ne so, all'età di Rayleigh... Potrebbe essere il vecchio possessore del furrutto Dark Dark. Del Dark Dark, se fosse morto. Se non fosse morto, no. Però, chi lo sa. Poi, prossima teoria, attenzione ragazzi, vi arriverete. Miocca, il figlio di Rayleigh e Shecky. Rayleigh e Shecky, Miocca. Secondo me questa è proprio la cazzata della vera. Non ci sta, assolutamente, no. Poi, Joy Boy è il primo detentore del frutto Gam Gam Gam. E cosa qui credo che sia abbastanza... Sì, il primo ad avere il frutto Gam Gam. Il primo possessore, diciamo, del frutto Gam Gam. Sì, è ovvio, ma abbastanza ovvio. Poi, Ryo Kugyu, ho sempre un problema a pronunciarlo. Ryo Kugyu? È il fratello di Dragon. Assolutamente no. Per un semplice motivo, che Garp... Cioè, che se fosse fratello di Dragon, sarebbe figlio di Garp. Garp è nella marina e a questo punto lui sarebbe entrato subito nella marina. Subito e anche come ammiraglio, probabilmente. Ma poi non si sa come siano entrati i Fugitori. Esatto, se non c'era lui, secondo me non... No. Non può essere il fratello di Dragon. Poi, una delle teorie più insensate, Akainu viene da Wano. Akainu da Wano? Ma se mi dicevi, Akainu arriverà a Wano? Era comunque no. Però ci stava un po' di più. Ma Akainu viene da Wano, no. No. Cioè, ma poi non ha nemmeno una spada. Wano è il posto del samurai. Forse Zoro viene da Wano. No, ma no. Forse Zoro viene da Wano. Zoro è molto più probabile. Ma Wano... Ma Wano... Akainu no. Shanks? Tu ti dimentico? No, perché Shanks? Akainu no, ragazzi. Non ha assolutamente senso. Negli occhi di Zoro c'è il potere di un demone. Secondo me no. Secondo me c'è qualcosina. Secondo me no. Perché se avesse il potere di un demone, cioè non è che viene così a caso. Dovrebbe avere il potere di un frutto del mare e non ce l'ha. Secondo me... Secondo me semplicemente si è tagliato l'occhio... Cioè, è banale, ma secondo me semplicemente se l'ha tagliato come... Cioè, allenandosi con miocchi. No, ma dice negli occhi, non nell'occhio. Eh, sì, però... Quando tipo lui fa l'asciola... Però no, secondo me non c'è... No, no. Non è proprio il potere di un demone. Buono. Poi magari anche se vi ricordate anche Ryuma se non sbaglio aveva un taglio sull'occhio. E questo potrebbe assomigliargli semplicemente e basta. Andiamo avanti. Prossima. Shanks. Shanks. È il figlio di Ksebek. Ma proprio zero. Cioè, insensata, non c'è motivo. In realtà questa non ci sono dati. Ma poi era nella turma di Roger. Non c'è motivo. Vabbè, ma quello lì sai, magari... Non so, Roger l'ha preso uguale e Shanks non voleva stare come... Sotto suo padre, come Yamato e Kaido. Secondo me non c'è motivo. Però non ci sono dati di fatto. No, infatti. Passiamo alle ultime quattro teorie. Allora, facciamo così. Noi diciamo le nostre, non quelle che ci sono scritte. No, prima diciamo quelle che ci sono scritte e poi le commentiamo e diciamo le nostre. Allora, le quattro teorie parlano dei frutti... Delle quattro divinità. Frutti delle divinità. Le divinità sono state... Aspetta, aspetta. Le divinità sono state elencate a Skypea. C'era un dialogo con Robin dove parlava della divinità della Terra. Non so se era Robin, mi sa che era una bambina di Skypea. No, mi sembra che c'era anche Robin. Parlava del dio del sole. Dio del sole. Della pioggia. Della foresta e della terra. Se Rufi è il dio del sole è abbastanza scontato che ci saranno anche i frutti del dio della pioggia, della foresta e della terra. Allora, in questo video dicono che, cioè, secondo loro, il frutto del dio della terra ce l'ha Im. Il frutto del dio della foresta ce l'ha Xebek, il frutto del dio della pioggia ce l'ha Dragon, e il frutto del dio del sole ce l'ha Rufi. Diciamo le nostre. Io sono d'accordo su Rufi, vabbè, è ovvio, ormai lo sappiamo, è ovvio. E anche su Dragon potrebbe essere... Su Dragon siamo d'accordo anche noi. Ci può stare. Ci può stare. Su Xebek e Im non proprio. Io direi più... Dio della terra, secondo me, poteva essere Barba Bianca prima. Anche secondo me mi ci ha fatto pensare Fra, quindi adesso... Perché comunque è il frutto che ha a che fare con la terra. Esatto, poi crea... Maremoti, terremoti, qualsiasi cosa, e quindi ci sta come dio della terra. E quindi ora sarebbe in possesso Barba Nera. Ora sarebbe Barba Nera, esatto. Mentre il dio della foresta... Dio della foresta non si sa che... Non abbiamo molti dettagli sul personaggio che stiamo per dire noi, e quindi, boh, volendo, magari ci può stare anche Xebek. Però, secondo noi, il frutto del dio della foresta ce l'ha Ryu... Ryo... 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 Comunque, deduciamo questo solamente dal dialogo con Fulitoria, dove diceva che non si nutriva da anni, e allora abbiamo pensato che ci nutrisse attraverso altri... Cosa c'è? No, da cosa le pensate? Perché il colore verde, cioè perché comunque... No, perché è rappresentato dal colore verde. No, ma io pensavo che te, senza Siume e me, dal dialogo con Fulitoria, che lui non... Vabbè, vedete quanto ci prepariamo i video, bellissimo. No, secondo me è perché... Che lui tipo non si nutriva da... quanto? Da tre anni? E allora c'erano le teorie che dicevano che secondo loro... Però, allora, in realtà non è neanche troppo... cioè non ci sta nemmeno troppo. Da una parte sì, per quello che abbiamo detto noi, ma da una parte no, perché... Comunque, vi immaginate in tutta la marina che hanno tutti dei Roja, poi Fugitore ha un paramicia, ora arriva questo che ha il frutto di una divinità. Che poi sarebbe troppo forte. Che poi ha pure un ammiraglio, nemmeno un grande ammiraglio. Il frutto di una divinità, secondo me, non ci sta. Non tanto. Cioè, potrebbe essere legato a lui, però non ci sta il fatto che ce l'abbia. Però ragazzi, è qua che dovete intervenire voi. Intervenite voi, scriveteci nei commenti... Chi è? Le vostre teorie, diteci come la pensate voi. Poi, una cosa che aggiungo io, per quanto riguarda i frutti della divinità, secondo me anche Robin è un frutto che... Che è un... Cioè, diciamo, legato a una divinità. Non ride. Non so che sta per ridere. Perché, Robin... Cioè, mi sembra strano che il frutto fior fior... Cioè, cosa c'entra nei fiori col far spuntare mani? Secondo me, ci sono divinità con molte braccia. Tipo delle specie di Buddha, mi sembra. Ora non mi ricordo bene. Però il Buddha ce l'ha già Sengoku. Quindi non può essere un Buddha. Però una divinità con tante braccia, cioè... Secondo me potrebbe essere legata a Robin. Comunque Robin è un personaggio importantissimo anche per quanto riguarda le divinità. Per i Pagni Griff, per tutte queste... Poi era la sua taglia a schizzerare. Per la storia, Robin è importantissima. Secondo me la sua taglia... Vabbè, della taglia ne parleremo poi. Ne parleremo... Però ci starebbe, ecco, anche una cosa così. Diteci anche cosa ne pensate voi. Fateci sapere le vostre teorie. Diteci cosa ne pensate le nostre. Scrivete qua sotto nei commenti, mi raccomando. Fateci sapere. Detto questo, ragazzi, direi che il video può finire qua. Fateci sapere ancora se cosa... Se vi è piaciuto o no. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere... Se spacca. Condividere e iscrivervi al canale. Passate dal profilo Instagram, attivate la campanellina. E mi raccomando, non perdetevi tutte le settimane, o perlomeno quando escono i capitoli, la recensione dei capitoli. Cioè, i video in cui leggiamo i capitoli, li commentiamo... Cercheremo di tornare insieme, di sparare le cazzate. Esatto. E vi diremo anche le nostre teorie. Quindi quei video lì non perdetevi. C'è la playlist, è fra le playlist, insomma, la playlist con tutte le teorie. Guardatevi quei video se ve li siete persi e non perdetevi. E a breve arriverà un bel vloggettino. No, questo no. Lui vuole... È tutto il giorno, mi rompe il cazzo per fare sto vlog. Ma perché voi, ragazzi, non vi immaginate quante cazzate... Cioè, quante robe divertenti si fa. Un giorno, ragazzi, forse quest'estate... E lui non vuole fare un vlog. Questa estate faremo un 24 ore insieme. Vai. Forse, vedremo. Comunque, ragazzi, vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao, raga.